Dedicato Renault Crio, 10 pollici Android 10, 4 giga di RAM, ROM 64 giga, DSP, Apple CarPlay Partiamo subito da Apple CarPlay dove il cliente potrà gestirlo sia vocalmente con Siri oppure manualmente come facciamo noi oggi Queste sono alcune delle app di Apple CarPlay Nel momento in cui vogliamo andare a usare Android usciamo da Apple CarPlay e andiamo direttamente in Android Abbiamo eseguito questa lavorazione qui, doppia USB, una verticale e una orizzontale Qui abbiamo la home Gestione radio con recupero comandi al volante E poi torniamo nella home Gestione audio e video tramite le due USB, via voce Bluetooth, streaming musicale Tutto il mondo Android, poi qui il cliente metterà l'account Partiamo da YouTube Sport 4K Oppure volete vedere tutti i video nei nostri prodotti installati presso le macchine dei nostri clienti? Semplicissimo, andate su YouTube Vogliamo vedere un Renault Clio prima di questo modello ultimo uscito? Basta Renault Clio Audio Elite E troverete Tutti i nostri prodotti Tra circa 30 minuti inserirò anche questo video Usciamo da YouTube Andiamo avanti con la dimostrazione Gestione video tramite USB L'abbiamo visto tante volte Maps Posizione real time Condivisione display Le app le potete decidere voi Visualizzazione aria condizionata Retrocamera originale Linee guida E abbiamo anche i sensori di parcheggio attivi Nel momento in cui rilevano un ostacolo Eccolo qua Possiamo anche escluderli manualmente Poi abbiamo Chrome Viale Palmiro Togliatti 600 Andiamo a stressare il processore Ecco qui Die S&P Die S&P E come al solito Grazie a tutti voi Perché abbiamo avuto la possibilità Di farvi vedere il nuovo prodotto dedicato a Reno Clio Grazie